Le scadenze ci eravamo date all'ufficio tecnico e nei vari incontri insieme al sindaco fatti nella frazione perché ricordo abbiamo cercato di almeno aggiornare il più possibile i cittadini per quanto riguardava l'iter del procedimento. Abbiamo preso questo impegno, ci sentiamo a questo punto di confermarlo assolutamente e quindi i lavori probabilmente chiuderanno a fine luglio. Quindi ampiamente in anticipo rispetto a quello che avevamo pronostiato perché appunto pensavamo di andare a fine estate e quindi invece per metà estate, fine luglio appunto saranno ultimati. Il lavoro appunto riguarda un sistema in questo bypass stradale che creerà una veabilità alternativa a quella che c'era di una lunghezza di circa 100 metri per una larghezza di circa 5-6 metri e quindi appunto sarà un'opera che servirà appunto a bypassare il frutto di frana che appunto come diceva il sindaco è veramente importante e di difficile gestione.